Eccellentissima signora, il bambino si deve chiamare Gesù. Ma mio suocero si chiama Matusalemme. Tu il nome di mio padre non glielo metti. Ma perché? Che fai? Gli dice, ecco il corpo di Matusalemme. Non suona bene la cosa. Signora, con tutto il rispetto, Gesù si deve chiamare. Glielo dica lei, San Giuseppe. Giuseppe? Io non sono Giuseppe. Io mi chiamo Giovanni. Susanna, chi è questo Giuseppe? Che ne so io. Giovanni, Susanna, ma che dobbiamo ristampare tutti i santini.